Cazzista per cominciare il matrimonio, dai mamma mia, ecco lui, ecco lui Fratelli e sorelle siamo qua riuniti per unire nel sacro vincolo del matrimonio questi due elettrodomestici Ma perché parli qui, è un versaggio Pina la macchina per fare le maschere, vuoi prendere il cui presente Pino la lavatrice come tuo sposo per la vita? Sì, lo voglio E vuoi tu Pino la lavatrice prendere il cui presente Pino la macchina per fare le maschere come tua sposa per la vita? Sì, lo voglio E con il potere conferitomi da TikTok Italia vi dichiaro marito e moglie E i miei bimbi stanno crescendo E ora Amio può baciare la sposia E i miei sposi Oh Amo c'è l'angelo del bouquet Non ci pensare neanche